FEDERICO LOCARDI Il lavoro è stato selezionato come finalista per il primo primo live 2018 organizzato da gruppo giovani della Società Chimica Italiana. Il lavoro è ovviamente frutto di una collaborazione tra diversi gruppi, in particolare il gruppo di Professor Ferretti del Dipartimento di Chimica dell'Università di Genova, dove ho svolto attività di ricerca negli ultimi anni come asignista, il gruppo di Professor Brovelli del Dipartimento di Scienze e Materiali dell'Università di Milano Bicocca e il gruppo di Professor Mann del Trattore Prato dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova. Nell'ultimo decennio la ricerca sulle peroschite a base piomba alogeno ha avuto un incremento esponenziale grazie alle performance di tali materiali nel campo del fotovoltaico e all'altissima resa emissiva quando preparati sotto forma di nanocolloidi. Strutturalmente sono formati da ottaedri piomba alogeno che condividono i vertici e da cationi monovalenti ad esempio cesopiù a formare una struttura cubica. A fronte di ottime proprietà vi sono però limitazioni al loro impiego su scala industriale e queste limitazioni sono dovute soprattutto alla presenza di piombo, il cui uso è soggetto a precise restrizioni per le opere ragioni di tossicità e al degrado a cui sono soggette nel tempo. Una delle strategie più interessanti di sostituzione del piombo è costituita dall'utilizzo di un catione monovalente ad esempio argento più e da uno trivalente come ad esempio l'indo 3 più. Immaginiamo quindi dipendere la struttura della peroschite cesopiombo-cloro-3 e andiamo a sostituire gli ottaedri piombo-cloro-6 con un'alternanza di ottaedri argento-cloro-6 e indio-cloro-6. La struttura che si ottiene è analoga e prende il nome di dupe peroschite. Ad oggi la ricerca sulle dupe peroschite si è focalizzata prevalentemente su cristalli singoli e su polveri. Al contrario le dupe peroschite nanostrutturate risultano praticamente inesplorate. Da qui nasce il lavoro oggetto della pubblicazione che ha previsto per prima cosa la sintesi delle dupe peroschite cesopiombo-2-argento-indio-cloro-6. La sintesi è utilizzata un'hot injection che prevede l'inserimento in pallone di tutti i metalli sotto forma di acetati, del solvente ed eleganti. Quindi il sistema è scaldato a una certa temperatura a cui si addiziona l'alogeno sotto forma di benzodi cloruro. Quest'ultimo a seguito di una reazione con gli eleganti libra l'anione cloruro che avvia il processo di nucleazione delle nanoparticelle. Quest'ultimo si presentano sotto forma di nanocubi eppure in fase. L'emissione è una banda molto larga risultante di una luminescenza bianca associata però a una resa emissiva relativamente bassa inferiore al 2%. Ciò è accostato dal fatto che la transizione coinvolta pur essendo tale materiale ben capidiretto è in realtà pori vita. Abbiamo quindi pensato che l'utilizzo di unione drogante potesse aiutare a superare questo problema e abbiamo quindi preparato lo stesso materiale utilizzando il manganese 2+, come drogante. I risultati hanno mostrato che si ottengono nanoparticelle cubiche con un'attima omogeneità dimensionale e, molto importante, il manganese risulta in effetti inserito all'interno della struttura senza segregazione superficiale. Le proprietà luminescenti migliorano nettamente grazie all'emissione del manganese centrata a circa 620 nanometri, quindi rossa, associato a un quantum need che in questo caso raggiunge il 16% circa. Tale valore risulta tutt'oggi un record di efficienza per le doppe perosciti nanocollidale, dimostrando quindi come la sintesi da noi sviluppata lavori molto bene per la preparazione di nanocolloidi di doppe perosciti e possa essere estesa anche ad altre stichiometrie. In generale, infatti, la ricerca sulle doppe perosciti è solo all'inizio. Se andiamo a considerare gli elementi della tavola periodica che possono formare le doppe perosciti, abbiamo circa 10.000 possibili stichiometrie, che diventano però un numero praticamente infinito se conteneremo un mix di metalli, alogenuri e, non ultimo, l'utilizzo di droganti. Possiamo quindi dire senza dubbio che siamo sicuramente solo i primi stadi della scoperta e della ricerca su questa promettente classe di materiali. Grazie a tutti.